Si avvicina le sterpaglie con un accendino le brucia, il rogo di vampa in pochi minuti. Le temperature torride di agosto hanno seccato l'erba e le fiamme si propagano con rapidità. Il piromane agisce indisturbato nonostante ci sia ancora la luce del giorno. Non sa però che ad osservarlo ci sono le telecamere posizionate dal corpo forestale dopo l'incremento di roghi nella zona del Parco Colli. Questa mattina il piromane è stato arrestato. Si tratta di Daniele Crescenzio, 37enne dipendente del centro Veneto Servizi, abita ad Arquapetrarca, a pochi metri dal luogo dove appiccava gli incendi. Ad incastrarlo è stata proprio la maglietta rossa con il logo dell'azienda per cui lavora. Le immagini lo hanno ripreso l'8 agosto e poi all'indomani quando è tornato per appiccare le fiamme ancora una volta. La forestale da qualche giorno però aveva posizionato le telecamere nei luoghi ritenuti obiettivo per il piromane e così è immortalato l'atto incendiario che ha distrutto quasi 4.000 metri quadri di vegetazione. Questa è stata una risposta importante perché la zona è una zona di particolare pregio ambientale che è catalogata dal piano regionale del Parco Colli Ugani come riserva naturale integrale. Quindi aver trovato finalmente il colpevole di questi due incendi sicuramente è un deterrente per ripetersi di altri eventi delittuosi in zona. Una zona dove ci sono specie animali e vegetazione protetta per questo il 37enne rischia dai 5 ai 10 anni di carcere. Oltre all'aggravante di aver bruciato un'area così di pregio, la forestale gli contesta la recidiva. Per il momento è accusato di due roghi avvenuti ad Arquapetrarca. Nell'estate 2015 però sono stati 10 gli incendi divampati all'interno del Parco Colli.